I pandestelle molino bianco, riscopriti genuino. La fattoria, dalle stelle alle stalle. La fattoria, in diretta dal Brasile, da mercoledì alle 21 su Canale 5. Repubblica presenta La Bibbia in tre volumi. Il primo volume da domani ha solo un euro e novanta in più. Scusa, ma gli hai chiesto il numero? L'hai chiamato? E adesso lo passi anche a prendere. Non ti ho insegnato nulla. Le donne devono farsi corteggiare. Sì, se stiamo lì col garateo ad aspettare il cavallo azzurro... Principe azzurro. Vabbè, stiamo fresche. Fammi provare? E l'appuntamento? Le donne devono farsi aspettare. Il gusto fresco delle nuove zuppe Knorr. Da oggi nel banco frigo. Knorr, innamorarsi in cucina. Da domani, pannoline a 9,29 euro. Sette di torchiere e otto pezzi a 5,99 euro. Fusion generazione 2005. Oggi anche TDCi 90 cavalli. L'unico Urban Activity Vehicle che muove la città. For Fusion TDCi. Doppier bag ABS climatizzatore a 12.950 euro. Anche sabato e domenica. Questa giungla mi distrugge. Mi sa che devo cambiare mestiere. Mi sa che devi provare le gocciole. L'energia golosa delle gocce di cioccolato su un biscotto di squisita pasta frolla. Gocciole pavisi. Partire con più gusto. Dai! Accetta la sfida! Con i nuovi Deo Roll On Nivea. L'efficacia è a prova di contatto. Grazie alla nuova formula Active Protection Plus. Per lui, per lei. Efficacia e sicurezza senza limiti. Con i nuovi Deo Roll On Nivea. Tutti i cellulari Vodafone costano 30 euro in meno. Corri e scegliere il tuo. Vodafone. Tutto intorno a te. Ci vuole poco per vivere meglio. Penny Market. Tutta la qualità in un penny. E da domani in offerta, poltrona e tavolo in midollino. Chevrolet. Molto di più. Su tutta la gamma, gratuitamente, la doppia alimentazione benzina e GPL. Il carburante più economico e ecologico che ti fa circolare sempre. In più da oggi Chevrolet è tua con 50 euro al mese. Senza anticipo e senza maxirad. Le concessionarie Chevrolet ti aspettano. Certo che sposarsi così su due piedi, eh. Ma è la mia morte che mi ha sposo, perché quanti piedi se ne usa? Complimenti, proprio un bel matrimonio. Mancava solo un buon caffè. Qualità oro, va bene. Ah, una sciccheria. Il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere. Vero, amore. Posso avere un bacio dallo sposo? Ma certo, eh. Ma come dirti di no? Quello, cara, no? Ma che è? In paradiso lo sposo deve baciare solo la sposa. Giusto. Già partiamo per un caffè. Dai, manco il caffè adesso. Non è per il caffè, è per il pensiero ardito. Ardito? Ardito, magari fosse ardito. A me mica mi fa male il dito. Eh. Carol, un uomo diventato papa. In Prima TV Assoluta. Prossimamente, su Canale 5. Buon proseguimento di serata, su Canale 5, con Nare. Garofoli, firma le vere porte in legno massiccio, classiche e moderne. Apriti Stefano, apriti Totano, apriti Cofano. Niente magia, amici, perché questo weekend i concessionari Fiat sono aperti. Così scoprirete la nuova Fiat Stilofil JTD. Più che magia, amici. Fatevi un giro che vi aspettiamo. I soldi non crescono sugli alberi. Allora, perché non scegli Fineco Bank? La banca online dove puoi avere zero spese, più interessi e la carta di credito gratis per sempre. Se pensi ai tuoi soldi, stai già pensando a Fineco. Iena, ho detto Iena e le confermo la parola Iena. Quindi lei ha detto? Ho detto Iena. Io mi rifiuto di credere che tu sia scappata di casa. Ah, l'abbandono? Non è per me, è per un mio amico. Se siete stati abbandonati. Mia moglie non è scappata di casa, mia moglie si è momentaneamente assentata. Se sospettate un tradimento. Oddio, è tornato? Com'è tornato? Se siete in piena crisi. Pieno che c'è gente! O vi siete innamorati, c'è un manuale per voi. Manuale d'amore nel cinema. Cerca spazio, si guarda intorno, cerca il numero e lo trovo. Oggi il grande calcio costa solo 3 euro a partita. In diretta sulla TV digitale terrestre, le partite in casa di Juventus, Milan, Inter, Roma, Sampdoria, Messina, Atalanta e Livorno. Con Mediaset Premium paghi solo quello che vedi, senza abbonamento. Cambiato su di lui, interviene l'arbitro. DAV Diodorante ti dà tutta l'efficacia che cerchi per farti sentire perfettamente fresca. E lascia la tua pelle morbida e liscia. DAV Diodorante, protezione efficace, risultato perfetto. Il tuo conto corrente ti rispecchia davvero? Guarda Reflex di Banca Midolano. È comodo, lo usi quando e come vuoi e ti costa da 0 a massimo 5 euro al mese. Ti serve contante? Hai oltre 15.000 sportelli convenzionati. E il Bancomat di tutte le banche italiane gratuiti. Entra in Banca Midolano. Signor Mandelli, benvenuto nella mia banca. La sua banca, ma è costruita intorno a me. Banca Midolano, costruita intorno a te. Gratta e Vinci presenta Las Vegas. Un nuovo gioco per vincere facile. Anzi, due giochi. Ma che dico? Tre giochi in uno. Las Vegas, un casino di premi fino a 100.000 euro. Las Vegas Graff e Vinci. Vinci spesso. Vinci adesso. Vorrei che tutte le vacanze fossero così. Il capitano. Mi ha subito insegnato tantissimo. Come affrontare il mare aperto. E le responsabilità. Ma soprattutto il capitano mi ha insegnato a affrontare le paure più grandi. Chi il meglio di un capitano sa come far crescere i capitani di domani. Pastoncini di Capitan Findus. I principi nutritivi dei migliori filetti di merluzzo in una croccante panatura. Per i capitani di domani. Non ti ho mai tradito. Per ora. Non farle mettere le mani addosso da chiunque. Lei ti ama. Ti chiede solo ciò di cui ha bisogno. Un cambio a odio. Non ti amo. Nelle concessionarie e officine Fiat fino al 15 aprile cambi olio e filtro a partire da 49,90 euro. Se tu la ami. Lei ti ama. Lo scudetto o la Champions League. L'Europa o la salvezza. Qualunque sia l'obiettivo della tua squadra. Vivi in diretta minuto per minuto la domenica della serie A. Mediaset Premium sulla TV digitale terrestre. Solo 3 euro a partita e paghi solo quello che vedi. Domenica in diretta alle 15 interfiorentina. Sampdoria Atalanta. Livorno Cagliari. Diretta Premium. Alle 18.15 in differita Messina Bologna. E alle 20.30 Roma Mila. Premiati quando vuoi. Nuova Sab 9.3 TID 150 cavalli. La potenza. In buone mani. A partire da 100 euro al mese. Tantra in 99%. Da Dez Amore Findus. Ricchi tranci di merluzzo in una crosta dorata. La nuova ricetta croccante da preparare al forno. Tutto comincia con un chip che contiene una tecnologia leader nel mondo. E diventa un televisore LCD Samsung. Samsung. Più durata, più pulizia, più prestazioni. Con Agip Blue Diesel la tua auto va più lontano. È incredibile! C'è in vista una vettura mai vista che sembra andare in full position! La differenza è blu. La differenza è Agip. Il mio sherpa. La mia attrezzatura. Il mio campo base. La mia pista. Il mio Everest. E la mia parte preferita. La discesa. La mia vita mi spinge a superare i limiti. La mia carta American Express è sempre con me. I soldi non piovono dal cielo. Allora perché non scegli Fineco Bank? La banca online dove puoi avere zero spese, più interessi e previavi Bancomat gratuiti da qualsiasi banca. Se pensi ai tuoi soldi, stai già pensando a Fineco. C'è bello. Vuoi chattare in TV? Vai alla pagina 860 di Media Video. Basta un SMS. Scegli il tuo nickname. Invia i tuoi messaggi. Crea nuovi murales. Puoi vederli direttamente in TV. Non perdere l'occasione di cattare con i tuoi amici e fare nuove amicizie. Vieni a divertirti sulla chat di Media Video. Ma tu sei ancora qui? E tu non dormi mai. Perché mangi sempre da noi? E dove lo trovo un secondo con contorno così buono? Guarda questo prelivato polvo alla diavola con patate di quattro salti in padella. Come mai hai apparecchiato per due? Vabbè dai, petto, coscia. Coscia. Peccato a tutto petto. Ho sbagliato ancora. Quattro salti in padella, Findus. Quelli buoni. Per davvero. Ti avevo promesso un'auto da sogno per il tuo diciottesimo compleanno. Ed eccola qui. Ma fino ad allora me ne occupo io per te. Nuova Opel Astra GTC. Scoprila sabato 19 e domenica 20 dai concessionari Opel. Questo è il Brasile che tutti conoscono. Ma non è quello che conosceranno i nostri concorrenti. La Fattoria in diretta dal Brasile da mercoledì alle 21 su Canale 5.